Sono 5.000 chilometri di argini che avrebbero costato 2 milioni di miliardi del chilometro. No, ma adesso si mette a fare i conti. Per cui, sono 270... No. Sono 22 euro. Sono 60 euro. Mamma mia. Sette. Dai. 200 miliomini di miliardi. Di miliomini. Tre. Tre. Tre zeri. Ma dopo a virgola o prima? Durante a virgola. Ma non esiste durante a virgola. Comunque dico che Buadì le nutre. Se mangia... No, vabbè. Dicalo Buadì. Hai fatto... Devo sapere che ha fatto uno spiedino de nutre. Buadì, dica quante nutre si è mangiato. Chi se ne frega. 15 nutri. Uno spiedino con 15 nutri. 15? 15. Ma con quanti seri? Ma no. Non si possono fare spiedini. Comunque, c'è un modo per ridurre... Mangiare le nutre. ...e nutre. Per cui, ecco, dico... Allora, vi faccio vedere una cosa. No, no. Io mi sono fatto fare... Cos'è? Sono animalista, però ho fatto fare questo panino. No, che scrive. Ca nutria. No, che scrive. Anche dal nome si chiama... Anche dal nome si chiama... Perché nutria? Nutria. Perché deriva da Natino nutrientis. No, non credo. Che sia proprio te nutria. No. No.